Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Technology e oggi siamo a fare il terzo vlog in una giornata, sempre noi, io e? Killer uno! Sempre vivo pure, lui ammazza, non è che... E infatti... Scherzo ovviamente. Oggi ho fatto tre cadaveri e li ho nascosti nell'armadio. Si, ho ammazzato tre villaggi di Clash of Clans. Eh appunto. No, in realtà mi sono auto-ucciso tre volte a Geometredash. Bene. Però se andate a vedere sul mio canale capirete perché. Bene, e... E' molto a caricare il video il quarto, diciamo. Bene. Devo creare il mio livello. Bene. Siamo sempre lì. Guardate dove. A fare un video qua. Non è che sempre lì perché non è che guardano tutti i miei video contemporaneamente. No boh, sì insomma siamo alla villa. Anche a me magari i milanesi danno quale villa. La villa del Chieti. Eeeh... Niente, non sapevo cosa fare. Facciamo sto vlog a caso. E mo' tagliamo. Andiamo, andiamo. Boh mo' tagliamo. Eeeh... Dio. Dio. Sare. Ah ma non c'è uno di dei killer. Ma siamo. Killer. Venga no oggi. Siamo stancati. Bene. Possiamo fermarci un attimo. Bene. Siamo sempre noi. E siamo qua alla Trinità. Sponsor per la villa. Come diceva in Sdani 36. La piazza. La piazza. Dagli. Cidio. Cidio. Non facciamo ste scale. Bene. Allora siamo rimastiti. Sto facendo altre scale. Non facciamo sempre scale. Anche se sono grasso. Tengo una panzeppa. Mi raccomando. Vedete Sanremo stasera. Perché è Stanasini. Io l'ho conosciuto in persona. È il 2013. Bene. Guardatelo perché ieri era brutto. Oggi sarà bello. Sarà anche rough. Credo. Ieri di bello c'è stato soltanto un hack. Anche se a killer ste cose non importa. E beh. Però se ci va un arciere di clash all'interno so. Ebbene. Ma che facciamo che stiamo? Ci fermiamo un attimo e finiamo che il video. Ci vediamo il prossimo video.